Disgreganti. Io penso che sia disgregante la linea politica di chi ha come priorità o sembra avere come priorità all'interno della costruzione europea l'obiettivo di mettere all'angolo intere nazioni perché non si condividono i governi che i cittadini di quelle elezioni hanno scelto in libere elezioni. Penso che questo sia disgregante, penso che sia particolarmente sbagliato in un tempo politico come quello nel quale noi viviamo perché ne abbiamo di avversari, ne abbiamo parecchi, si stanno organizzando e non credo che la cosa più intelligente da fare sia cercarne degli altri al nostro interno. Io credo che la sfida di questa Europa sia invece lavorare con rispetto per unire le sue nazioni, per cercare punti di sintesi, per lavorare insieme il più possibile su alcune grandi materie.